Avrebbero messo a segno oltre 20 furti ai danni di celebri boutique del centro storico di Firenze. Questa è l'accusa che ha portato all'arresto di tre uomini in esecuzione di una misura di custodia cautelare del GIP Anna Liguori dopo indagini condotte dai carabinieri coordinate dal PM Gianni Tei. I tre, origine nordafricana, età tra i 27 e i 34 anni, senza fissa di more già conosciuti alle forze dell'ordine, sono accusati di una serie di furti consumati o tentati tra novembre 2018 e maggio 2019 per un bottino stimato in 30.000 euro, tra capi di abbigliamento, cinture, scarpe, borse e profumi. I tre sono stati individuati dai carabinieri della stazione di Firenze Uffizi dopo una complessa attività di analisi delle riprese fatte dalle telecamere di sorveglianza dei negozi e di quelle comunali e grazie a quanto riferito da testimoni e vittime. Uno degli arrestati è accusato anche di rapina. Avrebbe percosso un giovane strappandogli dal collo una catenina d'oro. Due degli arrestati, un marocchino e un algerino, si trovano ora in carcere a Firenze. Il terzo, anche lui algerino, è stato rintracciato presso il CPR di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza.